Vale sempre quello che vale, ma non è arrivato così perché è stato il frutto del caso, è arrivato così alla fine perché abbiamo creato tanto e abbiamo anche sciupato altrettanto e perché abbiamo subito un gol un po' rocambolesco, insomma con la difesa piazzata, non avevamo mai dato opportunità. Sono contento di quello che abbiamo fatto complessivamente, è chiaro che dobbiamo crescere, è chiaro che i 15 minuti del secondo tempo in cui cambiamo l'atteggiamento abbassandoci un pochettino, questo non è un tipo di calcio che per adesso siamo in grado di interpretare, ci hanno fatto un po' abbassare i ritmi, abbiamo dato un po' di campo a loro, noi ce ne siamo presi tanto di campo, quasi sempre durante la partita. Però è bastato dargli un po' di campo, insomma sono stati bravi e risoluti a pareggiarci la partita, ma non era un risultato giusto, insomma noi abbiamo fatto un'ottima gara, poi alla prima di campionato i miglioramenti saranno evidenti, sono sensibili, però abbiamo fatto complessivamente una buona gara, è una vittoria meritata. Poi è venuta così, anche con questo afflato con i tifosi che è altrettanto importante. Abbiamo perso un po' le distanze, ci siamo abbassati, non abbiamo dato i tempi dell'aggressione come si deve a partire dagli attaccanti e questo ci ha fatto perdere un po' di campo, ma voglio dire può succedere. Il problema è che devi essere poi dopo più geometrico quando fai il break a ribaltare il fronte di gioco. Stiamo andando a cercare un piccolo dettaglio che chiaramente con i ragazzi analizzeremo, però per 80 minuti la squadra mi è piaciuta tanto, se non nel fatto che non siamo stati fortunatissimi e neanche tanto brillanti nelle conclusioni. Però abbiamo costruito veramente tanto con una squadra che comunque il confronto l'ho accettato, a cui abbiamo impedito di fraseggiare, abbiamo impedito bene. Una squadra anche pericolosa perché comunque mantiene sempre tre giocatori davanti, non abbiamo dato mai nessun break, tranne una o due situazioni in cui abbiamo regalato palla sul piede ma ci siamo compattati subito. Complessivamente abbiamo fatto un'ottima gara, è una vittoria legittima, è una vittoria importante perché poi quando si vince è sempre importante, però è un inizio, andiamo avanti. Ha fatto un'ottima partita, essendo la prima anche Chiarella che è un ragazzo giovane che ha qualità, poi gli altri i cambi, bravo. Ha detto una cosa importante, lei mi sono piaciuti come sono entrati quelli davanti, Ferrari, mi è piaciuta la determinazione, il furor agonistico che ha messo in campo e la grande voglia, assieme alla qualità di Marilungo che ha messo in campo anche le stesse cose, di Botic. Come ho detto prima c'è bisogno di tutti nel corso di un campionato per vincere le partite, io come vi ho detto in questi giorni non abbandonerò mai nessuno, qui c'è un gruppo di giocatori che nessuno è titolare, nessuno è riserva. Abbiamo un obiettivo comune questo, ribadisco quello che ho detto in questi giorni. Avrei dato sette e mezzo, tolto quei dieci minuti e tolti anche la quantità industriale di pallegò che abbiamo sbagliato, tenendo in bilico una partita che poi il calcio è così, però bene complessivamente, questa è la strada giusta.